Per me Tiger è sinonimo di diversità, stravaganza, condivisione, sorpresa. Tiger per me è sinonimo di gioco perché fanno delle cose semplici ma utili. Quest'anno IED ha avuto il piacere di collaborare con Flying Tiger Copenhagen, la celebre catena danese di negozi di oggettistica per il lancio di un contest di design democratico. Il tema del contest è stata la personalizzazione di un oggetto iconico del brand, un puzzle bianco, do it yourself, che viene appunto venduto e sul quale il cliente può dar libero sfogo alla sua creatività. Oltre agli studenti IED hanno partecipato all'iniziativa Creativi e Professionisti che ruotano attorno all'Istituto Europeo di Design di Milano. I disegni hanno una tematica e la tematica è il Natale, quindi una tematica molto popolare. Ma è proprio perché è molto popolare che è anche molto difficile, perché è molto difficile trovare qualcosa di originale su un tema che è praticamente immenso per qualità e quantità di immagini che esistono ovunque. La particolarità di questo progetto è proprio la sua democraticità, ovvero l'essere aperto a tutti. Perciò professionisti affermati e studenti in erba hanno affrontato la personalizzazione dei pezzi con la tecnica dispressiva che più li rappresenta. Inoltre ciascun puzzle viene venduto da una cifra simbolica e in forma anonima, ovvero l'autore viene svelato solamente una volta che l'acquirente ha acquistato il pezzo. Gli elaborati sono stati messi in vendita presso la Fira del Mondo Creativo di Bologna a novembre 2018. Destinataria del ricavato e della vendita di questi elaborati unici è stata una cooperativa sociale di Bologna, siamo qua, con particolare attenzione a quella sezione femminile della casa circondariale Dozza di Bologna, quindi a quelle detenute meno fortunate che cercano nuove modalità di inserimento sociale. Grazie a tutti.